Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove ci sono rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Ovest Ponsacco e Ponte d'Era Est in direzione Firenze. Prestare attenzione agli animali sulla strada segnalati tra Santa Croce sull'Arno e San Mignato in direzione Firenze. In A1 perdita di carico tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze. In A12 personale sulla strada per lavori tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Per quanto riguarda le statali sull'Aurelia rallentamenti in entrambe le direzioni per un senso unico alternato per lavori tra i chilometri 393 e 165 e 393 e 480 tra Ortonovo e Sarzana. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!